Parliamo di Serie C, 5 giornate all'epilogo, ma si è appena concluso l'anticipo della 34esima giornata. Lentella ha prevalso sulla Pistoiese per 3-1. Aveva illuso il gol dell'ex Biancazzurro, ancora di proprietà del Pescara, che si è trasferito a gennaio alla Pistoiese. Bocic dal settantesimo in poi al settantunesimo, per la precisione, il gol di Lescano, argentino, classe 1996, al decimo sigillo in questo campionato. Poi c'è stato il raddoppio, ribaltato la situazione, lentella con Mercai, l'albanese, al minuto 80. 11 centri questa stagione per il classe 97, che lo scorso anno militava in Serie D, nel vasto Girardi, allenato dal pescarese Fabio Prosperi. E poi all'ottantanovesimo ha chiuso i conti Caric, dunque entella batte Pistoiese 3-1 per una classifica che vede lentella agganciare il Cesena al terzo posto. Naturalmente lentella con una gara in più, il Cesena sarà di scena a fermo domenica prossima, inizio alle 14.30. La fermana che ha destituito dall'incarico Riolfo, il suo posto Baldassari, ex Ternana Pescara, che invece ospiterà il Ponte Nera alle 14.30. Il Teramo, oggi ha parlato Guidi, il Teramo sarà invece di scena ad Olbia, il Teramo che ha 37 punti. La Pistoiese resta al quart'ultimo posto con 32 punti. Dunque Pistoiese battuta sul campo dell'entella per 3-1, Pistoiese che era andata in vantaggio. Ripetiamo con Bocic, poi ha ribaltato la situazione dell'entella con Lescano, Mercai e Caric negli ultimi 20 minuti di gara. Il Pescara, come detto, affronterà, ospiterà il Ponte Nera, domenica inizio ore 14.30. Sempre differenziato per Mirko Drudi che a questo punto salterà anche la sfida con i Toscani. C'è il dubbio Pompetti, dunque senza Drudi e lo squalificato in grosso nel cuore del reparto retrato aggiranno Ijanes e Ierardi che nelle ultime sei gare ha giocato soltanto 17 minuti, 9 con il Siena, 8 con il Cesena. Ultima partita da titolare lo scorso 20 febbraio contro la Fermana in trasferta. Centrocappo, abbiamo detto, dubbio Pompetti. Il centrocampista oggi si è allenato regolarmente ma sul suo impiego Auteri deciderà solo dopo la seduta di rifinitura in programma domani mattina in preallarme Jumbo che al momento sembra in vantaggio su Memuscia. In attacco Rauti contende la maglia da titolare a Clemenza. Deludente a Teramo, Dursi e Ferrari completeranno il tridente. Oltre a Drudi e allo squalificato in grosso marcheranno visita i nazionali Sorrentino e Blanuta. L'infortunato Chiarella per il giovane attaccante Biancazzurro ancora noie muscolari al flessore. una ricaduta dopo l'infortunio dal quale si era da poco ristabilito. Il Ponte Nera, squalificati Milani e l'esperto centrale argentino e specie, altresì ai margini il lungo degente pretato. Ieri sera Simone Magnaghi è diventato per la seconda volta papà l'attaccante. 15 gol in questa stagione ma secco da segare potrebbe partire dalla panchina nel 3-5-1-1 disegnato da Maraia. Serena dovrebbe giocare tra le linee alle spalle di Mouton. Sulla fascia sinistra Regoli rimpiazzerà Milani a destra per retta. In difesa il trio Matteucci-Shiba-Baccaio con il ruolo di regista uno tra Caponi e Lex Foglia. Mezzali, Catanese e Barba. Arbitro donna Maria Marotta della sezione di Sapri. Arbitro donna Maria Marotta della sezione di Sapri.